L'altro ieri stavo facendo la cacca in un bagno pubblico e ad un certo punto arriva un ragazzo che entra nella cabina accanto alla mia. Io mi sento un po' in imbarazzo quindi provo a rompere il ghiaccio e gli chiedo se segue la politica, ma lui non mi risponde. Perciò inizia a innervosirmi, alzo la voce, gli ripeto la stessa domanda, così lui mi risponde e mi dice non molto. Gli chiedo se ha sentito parlare dell'ultima manovra di bilancio, lui mi risponde di no, allora mi incazzo e tiro un pugno fortissimo contro la parete che separa le nostre due cabine. Io me ne pento quasi subito, perciò gli grido scusa e lui non mi risponde, mi sento ancora peggio. Allora prendo un po' di soldi che ho in tasca e gli offro da sotto la cabina, così in segno di pace. Resto lì per un po' con il braccio teso e lui soldi non se li prende. Allora gli grido prendi i soldi, lui mi dice di no, allora mi incazzo ancora di più e tiro lo sciacquone ed esco e provo a mantenere la calma. Così lo aspetto fuori e gli posso chiedere scusa. Dopo un po' lo vedo uscire e gli dico che volevo scusarmi per prima e lui mi risponde se ne va a fa' un culo e se ne va.